Ripartiamo, ventunesima edizione e il premio prevede come al solito, è dedicato alla sezione narrativa e poesia alle donne italiane e straniere e oltre al premio sezione junior e studi dedicato agli studenti, a tutti gli studenti della sola regione Marche e delle scuole dalle medie alle superiori, quindi sono escluse le elementari. Per la sezione degli adulti è previsto un concorso di spese di 20 euro per partecipare, ovviamente se si partecipa in entrambe le sezioni la quota deve essere duplicata, mentre per gli studenti della sola regione Marche è gratuito, proprio per incentivare i ragazzi a scrivere e a confrontarsi con tutto quello che sta succedendo. Gli anni scorsi e le precedenti edizioni abbiamo avuto moltissime adesioni da tutta Italia e anche dall'estero, quest'anno ci aspettiamo molto di più perché essere stati chiusi per tanto tempo ha permesso a molte donne di mettere su un foglio i propri pensieri, le proprie ansie, le proprie anche depressioni perché comunque è stato un periodo che ha provato, ci ha provato e ha provato molto tutte le scrittrici. Mi aspetto grandi adesioni per avere il bando, il bando è qui, ve lo mostro, sia per la sezione adulti che per la sezione junior study e comunque pubblicato sulla pagina facebook www.facebook.com slash ladonnasiracconta, altrimenti potrete chiamare al numero di cellulare 339-8145045 per avere dei raguagli. Ripeto, 339-8145045. A breve sarà questo concorso, questo bando per la sola sezione adulti perché mentre per gli junior study provvediamo direttamente tramite la rete scuola a dare opportuna informazione. Per gli adulti ci sarà anche l'inserimento in una sezione dei concorsi letterari che a breve comunicheremo sempre via facebook o con altri canali autorizzati.